Ben ritrovati amici del Centro Mario Italiano. Prosegue la fase di tempo instabile sulla nostra penisola a causa di una circolazione depressionaria che insiste sul Mediterraneo occidentale. Vediamo però nel dettaglio le previsioni meteo per venerdì 13 aprile. Piogge sparse al mattino su Lombardia, Liguria, Friuli e Toscana, con velocità in transito altrove alternata ad ampie schiaride ma senza fenomeni. Al pomeriggio ancora piogge sparse al nord, in particolare sul nord-ovest ed Emilia Romagna. Tempo stabile altrove ma con nuvolosità in transito. In serata e nottata fenomeni di esaurimento ovunque, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Temperature in generale calo nei valori minimi su tutta la penisola, massime stazionari o in aumento. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni al giornale sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Mario Italiano.